Con Paolo Marchetti andiamo ad Haiti. Haiti nelle favelas dove vivono i più poveri dei poveri. Haiti è un'isola devastata da terremoti, dittatori, colera, insomma un paese estremato. E dalle tue foto sembra che nella vita sia regolata o dalle gang, dalla violenza delle gang, oppure dai riti voodoo. Ma raccontaci te. Sì, come hai detto Haiti è trafitta dalla politica, dalla storia, dalla natura, da un territorio anche poco fertile, dagli eventi in generale. Quello che mi interessava non era, è come al solito cercare di fare un'analisi di tipo antropologico e di come si possa resistere a tutto questo. Quello che personalmente ho vissuto è un grande popolo con una capacità di resistere straordinaria e gli strumenti che questo popolo ha. Noi stiamo vedendo le tue fotografie. Che cosa servono i riti voodoo? Che cosa danno? Viste da fuori sembrano dei riti estremamente violenti. Eppure hanno un loro perché lì. No, senz'altro dal nostro punto di vista, e io per la prima volta reagì in maniera molto forte, perché poi ognuno usa i propri codici culturali. Haiti è una mistura di credenze animistiche e magiche per la sua stessa storia, a partire dalla schiavitù, per tutta la cultura africana che porta con sé. Il rito voodoo fa sì che il fedele si appelli a divinità superiori, quindi c'è questa forte presenza degli spiriti a cui chiedere e anche offrire qualcosa in cambio. Quindi il sacrificio dell'animale, danze e questo insomma è la nostra preghiera. Per te è stato facile essere accettato da loro, poter fare quelle fotografie? No, non lo è mai stato, non è assolutamente stato un passo semplice né entrare né riuscire a restare, sia sotto l'aspetto dei rapporti, sia a livello emotivo. Perché insomma sono esperienze di cui per fortuna o no non ti liberi mai. Questo progetto è frutto di due viaggi, ci sono state modalità diverse con le quali io sono riuscito a entrare in contatto con loro. Addirittura mediante la musica è successo, che ho avvicinato, sono stato in grado di avvicinare i ragazzi di strada, quindi i componenti delle gang che anche lì gridano la propria rivalza mediante il rap. Io insomma ebbi modo di far ascoltare un famosissimo gruppo italiano e questo accorciò le distanze e mi permise anche di ammorbidire quella tensione che sempre un giornalista o un fotogiornalista mediante il suo strumento, mediante la sua presenza, instaura involontariamente nei contesti. Ma queste gang controllano le favelas o controllano l'intera città? Brevemente, la storia delle gang nasce proprio come strumento sul territorio, durante le dittature, Aristide, Duvalier, eccetera, furono proprio letteralmente armate e andò scemando questo fenomeno delle scimer, così chiamate, con la catuda delle dittature, ma poi alla fine dove c'è sofferenza c'è sempre un grido di rivalza. Ecco perché ho raccontato le due facce, quella spirituale ma anche quella mediante le armi. Oggi le gang non hanno il ruolo di prima, per risponderti, non hanno... sono dei fenomeni culturali e sono un modo per sopravvivere, perché poi fondamentalmente credo, ed è quello che ho visto, nessuno prende un'arma per offendere deliberatamente. Credo che sia sempre una ricerca di salvezza, sia sempre una forte urgenza di rimettere la testa fuori dalla sofferenza, dal buio. Ecco, se mi puoi dire, diciamo, in questo posto, diciamo, sei riuscito a intravedere un futuro oppure è il posto, diciamo, disperato senza... È molto complicato. Fa anche male ammetterlo, però onestamente forse è l'unico posto dove io non sono riuscito a vedere una luce. Forse perché ho visto quello che non ho mai visto da nessun'altra parte, perché nessun segnale, fino alle politiche attuali di Trump, nessun segnale lascia immaginare o sperare... Quindi è un posto dove non si vede il futuro, quindi è quasi un buco nero. È un posto sfortunato a partire dal territorio, dalle risorse naturali, da questo costante bombardamento degli eventi catastrofici naturali. C'è un uragano ogni 4-5 anni. Questo si vede anche dai colori lividi delle fotografie. Grazie, grazie Paolo Marchetti, grazie per le tue fotografie.